buongiorno amici ho fatto un tempo a rientrare un buongiorno certo molto bene allora oggi vi faccio vedere il ciopetino yellow vedete direttamente dalla planta molto bello fino ora avevo solo siamo nel 2023 perché questo video avrà visto anche fra mille anni e allora ho solo ciupetino avevo solo ciupetino red e da quest'anno abbiamo anche ciupetino yellow che viene anche detto bichigno e il salmon che è veramente incredibile bello salmon e il black che è bellissimo di questo vi faccio vedere in diretta ecco ci avevamo ci abbiamo sia lo yellow che l'orange che è successo che quando è quando è così e yellow e se si lascia andare diventa orange per cui io questo lo chiamerò semplicemente ciupetino yellow e non starò a distinguere perché mi sembra ci sembrerebbe una fregatura quindi abbiamo ben 5 trenti ciupetino yellow questa è la prima carica vogliamo ecco se si inquadra anche un fiore da bellino ecco qui abbiamo una seconda che vi ho appena fatto vedere qui abbiamo la terza vedete questa è bellissima bella guardava wow e qui l'ultima quindi amigos mio andate a vedere che pubblicherò prossimamente il salmon e il black e direi che da ciupetino o bichigno yellow amarillo amarillo carlo martini semistrani punto it e gemma cavazzi a tutto arrivederci arrivederci